Il derby Pisa-Lucchese, ecco questo momento prima appunto della partita dove viene consegnata da parte del Pisa 1909 questo riconoscimento all'avvocato Francesco Bizzarri per il suo impegno legato comunque all'arena, allo stadio Romeo Anconetani per quanto riguarda anche la presenza degli Stuart e soprattutto anche all'impegno per quanto riguarda il corpo guardie di città ecco guardiamo questo momento che è stato sottolineato anche da applausi e riconoscimento appunto di questo corpo adesso veniamo alla pubblicità